Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo video di analisi sul nuovo Doom che sta per uscire a maggio. Vi invito caldamente, se non l'avete già fatto, a guardare i precedenti video perché in questo si daranno molte cose per scontato dato che sono già state analizzate. Quindi, iniziamo adesso dal primo trailer uscito nell'E3 2015. Ecco un'inquadratura della tuta del Marine, che sembra fatta di gomma dalla consistenza, ma siccome deve essere un'armatura, ho fatto un po' di ricerca online e suppongo sia fatta di Kevlar, un materiale 5 volte più resistente dell'acciaio per trazioni meccaniche e alte temperature. E' leggerissima nel peso, un'armatura perfetta, non credete? Qui vengono mostrati gli smembramenti con fucile, con doppietta, con mitragliatrice, plasma gun e motosega. E lasciatemelo dire, se sono davvero così, sono fantastici. Ecco che in questo frame viene mostrato il volto del Pinky Demon mentre carica. Pochi frame successivi, si vede un'ombra in lontananza. Sì, è sicuro un Baron of Hell ed è anche abbastanza inquietante. Qui di seguito c'è una parte della fatality che subirete dagli Hell Knight. Ve la rallento in modo che possiate gustarvela meglio. Passiamo al secondo video, quello dell'alpha di Doom. Così come la beta è stata a numero chiuso, quindi non potrete trovare alcunché su YouTube, se non pochi spezzoni. Perché altrimenti tirerebbero giù il video. Passiamo al gameplay, annunciandovi che sì, sono in possesso di uno dei codici della beta. Ma che non mi sarà consentito registrare nulla per il canale perché anche questa è a numero chiuso. Ma non preoccupatevi, farò sicuramente un video dove vi ricapitolerò tutto. Passiamo al gameplay, vi va? Fin dai primi secondi possiamo notare qualche differenza nell'HUD. In alto a sinistra possiamo vedere il nome della nostra squadra e il conteggio delle uccisioni. In più un timer, 900 secondi, che equivalgono a 15 minuti. Suppongo sia quindi un deathmatch. In basso a destra, vicino al plasma lifefall, c'è l'icocina di una granata. Interessante anche questo. Notate che, anche vicino all'icocina del Ray Gun, c'è un'altra icona, di cui non sappiamo il suo utilizzo. Le morti vengono visualizzate in alto, a destra. E notate questa modalità di fuoco del Plasma Gun. Trattenere una sfera di energia, per poi rilasciarla tutta ad un botto. Nuova modalità di fuoco nella serie, e secondo me fa anche splash damage. Notate ora come ogni volta che si colpisce qualcuno, oltre al sangue, compaiono questi numerini. Potrà sembravi assurdo, ma in realtà è molto comodo per capire quanto danno stiamo facendo al nemico. Switch Heater è una cilumente di cui non ho idea di cosa significhi. Spero non sia scambiabare. Da notare che ogni volta che si spara un raggio, compare la scritta DETONATE. Che i raggi siano detonabili anche a distanza. Sarebbe una figata pazzesca. E qui a sinistra viene mostrato come si fa il doppio salto in Doom. In pratica sono le scarpe stesse ad avere dei retroraggi per volare, per un piccolo periodo di tempo. Questa nuova arma sembra un fucile d'assalto, ma non ho idea di come si chiami, poiché l'HUD non ci dice nessuna informazione. Peccato. Ecco che viene lanciato un gadget che, da come sta scritto sullo schermo, serve a teletrasportarsi a brevi distanze. E infatti il giocatore ricompare esattamente dietro al nemico. Questa nuova arma è chiamata Cannone Statico. E anche essa funziona similmente ad un Railgun potente, ma che necessita di un tempo di ricarica esorbitante. Notare che l'HUD dica che la Demon Rune sta per spawnare. Fantastico che ci sia anche questa possibilità, senza che vi dica quanto tempo manchi. Si può persino essere più tattici in questo senso. E notate come la Demon Rune abbia un'icona dedicata a quando spona. Ecco dei Medikit, che suppongo siano stati messi a mezz'aria per favorire la velocità del gameplay e usare anche il doppio salto. Ed eccolo qui. Quel teschio nella luce blu dona il quad damage, che quadruplica i danni. Inutile dirvi che questo è un power up di Quake, ed è un'assoluta novità vederlo in Doom. Notare anche come l'HUD vi dica persino chi diventa un Demone, e quindi chi dobbiate temere. Quell'attacco caricato visto con il Plasmagun è possibile eseguirlo anche con il Quad Damage attivo. Pensate solo ai danni. Quando si viene uccisi compare la scritta in questo box di chi vi ha ucciso, di quale squadra faccia parte, e perché siete stati uccisi. In questo caso, Splash Damage dei Razzi. Nuova arma, Cannone Gauss. È estremamente potente, ma già si vede che è difficilissimo da usare poiché è ingombrante e richiede persino più precisione del Railgun. Notare come l'HUD vi notifichi anche quando finisce l'effetto della Demon Run su un alleato. Diavolo, un colpo 150 danni, è un'arma distruttiva. Questa la riconoscete? Eh sì, è proprio l'invisibilità. Vi prego, id, sistematela dato che nei precedenti Doom è abbastanza inutile come power-up. Ecco come funzionano i teletrasporti. Sentate dentro e vi spona in meno di un secondo in una nuova zona. Perfetto anche questo. Da notare come si carica il cannone statico. Vi viene visualizzato sul mirino il tempo di ricarica. E qui c'è il revenant trasformato grazie alla Demon Rune. Notate che dura solo 60 secondi e che avete 250 vita. Inoltre, anche tasti dedicati sia per volare con il jetpack e sparare con i razzi sono mostrati a schermo. Quella piccola barra attorno al mirino serve per farvi capire quanta autonomia del jetpack avete. E il revenant subisce davvero pochi danni dai suoi razzi. Questo per me non va molto bene. Dovrebbe subire quanto un giocatore normale, altrimenti la Demon Rune diventa davvero troppo OP a livello di gameplay. Notate che il cannone Gauss one shotta il revenant. Incredibile. E se il tempo non è finito, potrete fregarvi voi il potenziale rimanente della Demon Rune trasformandovi a vostra volta. Questo mi piace tantissimo. Infine, ecco la fatality su revenant. Passiamo al terzo video. Primo frame e già si vede la torre di Babbele in lontananza. Come faccio a sapere che è quella? Perché viene aperto da un fascio di luce. Presumibilmente un portale verso l'inferno. Figo è il nuovo logo della UAG. Ed ecco qui un cadavere che servirà per aprirci la porta con lo scanner della retina. Se devo provare a fare l'investigatore, direi che è stato ucciso da un imp. Notate la bruciatura e i tagli sul volto. Confermata che è la presenza degli ascensori. Interessante notare che questi nemici sembrano possedere un campo di forza e che persino da questa distanza il fucile può tenerli a bada. Ed ecco lì un cavo demone con i colori originali. Fantastico. Finalmente ecco anche il volto dei Pinky Demon. E la fatality che subisce è anche abbastanza cruenta. Ecco uno sguardo agli imp. Il look sembra cambiato da quello delle 3 2015. Confermato anche che il cannone Gauss sarà possibile prenderlo nella campagna. Perché quest'area è stata già mostrata nelle 3 2015 come parte integrante della stessa. La fatality al cacodemon è fenomenale. Al momento è la mia preferita. Una nuova modalità di fuoco del Chang'an con 3 bocche da fuoco. Incredibilmente esagerato ma ok. Infine ecco il pezzo forte. Il baronovella. Mostro che mancava in Doom 3. E non so perché l'abbiano eliminato. È stato invece reinserito in questo Doom. E io non posso che essere contentissimo. Il look è incredibilmente spaventoso. E gli occhi verdi spiccano tantissimo sul rosso della sua velle. Di seguito ecco la fatality del baronovella sul marine. Le unghiacce nere del piede trattengono sia la braccia che la testa. Mentre il baron tira tutto il resto del corpo staccandolo. Infine il demone continua ad inferire sulla testa del marine. Infine ultimo videotrailer ufficiale del multigiocatore. Ebbene anche le voci fuori campo sono state tradotte. Qui viene mostrato un campo di forza. Interessante a livello di gameplay. Notate anche l'altra voce fuori campo maschile. Sembra come l'annunciatore che c'era in Unreal Tournament. Ed ecco che la Demon Rune mostra quello che avevo già predetto. È possibile anche trasformarsi in baronovella. E vengono mostrate anche due fatality che sono esclusive in questa forma. Notare la scritta Hologram Running. Un hologram alla Duke Nuke in 3D in Doom. Novità anche questa. Ecco quello che vi ho già spiegato. Se si uccide un giocatore con la Demon Rune attiva. Voi potrete fregargli la Demon Rune. E questo sembra, credo, un imp. Questo attacco di carica dell'imp è incredibilmente veloce. Anche la fatality dell'imp sembra abbastanza figa. Questa arma sotto l'effetto del Quad Damage sembra diversa da qualunque arma mostrata fino ad adesso. Notate come il Mancubus ha una specie di elmetto in testa. Che sia un Marine trasformato dalla Demon Rune? Non possiamo ancora saperlo. Bene, i video si concludono. Grazie per aver visualizzato il video. E se vi è minimamente sembrato utile, vi invito a mettere mi piace. Alla prossima.